Nonostante annunci, firme, incontri e conferenze stampa al momento resta fermo l'aggiornamento del profilo della salute della città di Andria perso nei meandri degli uffici tra i tanti enti che devono collaborare alla redazione del documento che manca da praticamente 23 anni. Il primo e unico profilo della salute della città fu redatto infatti nell'anno 1999 e resta l'unica vera fotografia sociale e sanitaria dello stato di salute di Andria. Da allora tutti i tentativi di portare a casa un aggiornamento di quel documento sono naufragati sulla difficoltà di far sedere attorno a un tavolo i molti enti che devono fornire i dati. E' mancata probabilmente anche una forte cabina di regia affidata al comune di Andria. Sono mancati i numeri e le analisi e mancata molto probabilmente anche la volontà di capire e di redigere uno strumento che avrebbe potuto rappresentare una nuova precisa istantanea del momento vissuto dalla città. Sarebbe potuto essere anche un esempio da seguire per le altre comunità vicinore. Un lavoro di ricerca e di studio che permette di raccogliere e valutare un enorme mole di dati che successivamente dovrebbero poi indirizzare anche le scelte politiche per il bene comune. Insomma uno strumento ambizioso per cui da dieci anni si battono molte associazioni ma che nell'ultimo periodo pare aver anestetizzato l'interesse. Il forum ambiente ricorda e rispetta già al lavoro nel comitato tecnico scientifico istituito in modo specifico per la redazione del profilo ha nuovamente sollecitato l'ente comunale con una nota in cui si chiede di accelerare l'iter negli scorsi giorni. Ma mancano comunque i dati. Da aprile scorso quando ci fu un incontro tecnico alla presenza del sindaco Giovanna Bruno e del direttore generale dell'ASL BT Tiziana Di Matteo poco o nulla è cambiato. I dati giunti nelle mani dei tecnici dell'ente comunale sono parzialmente quelli della stessa ASL ma anche quelli dell'ARPA Puglia ma siamo ancora lontani dal completamento. Il problema tra le altre cose è che più passa il tempo e più quegli stessi numeri diventano vecchi e rischiano di rendere molto meno efficace il documento stesso.